A solo un giorno dalla data della fusione ufficiale tra Ita e Lufthansa e dopo due anni di trattative serrate, la compagnia aerea tedesca ha fatto un brusco passo indietro. Il vettore di Berlino ha posto la condizione di rivedere al ribasso, con uno sconto milionario, l'impegno economico per l'acquisizione della seconda tranche del pacchetto azionario della compagnia italiana. Motivo? Secondo i tedeschi, negli ultimi sei mesi Ita avrebbe perso valore sul mercato. Insomma, nozze rinviate a un passo dall'altare. Un mancato accordo però potrebbe avere conseguenze anche per i lavoratori. Noi ci auspichiamo che abbia appunto un risultato positivo il tentativo di fusione e l'accordo con Lufthansa. Deve essere chiaro che questo accordo non deve essere fatto però danneggiando i lavoratori. Crediamo che già sia stato fatto abbastanza dall'Unione Europea per danneggiare la nostra compagnia. Noi riteniamo che un'eventuale penalizzazione ulteriore della nostra compagnia sia una cosa altamente negativa. Nello stesso tempo, non essendoci alternative in campo, speriamo che la trattativa con Lufthansa si chiude nella maniera migliore possibile per i lavoratori e anche ovviamente per il Paese. Tutto ciò dovrà essere fatto chiaramente tenendo in conto il fatto che l'accordo dovrà essere improntato sullo sviluppo del network di Alitalia e sul versante lavoro, sulla richiamata di tutti i colleghi che sono ancora oggi in cassa integrazione, la stabilizzazione dei tempi determinati che ci sono in azienda e chiaramente riteniamo che non si può più tardare anche rispetto al rinnovo del contratto. Quindi ci aspettiamo che da un eventuale accordo ne esca tutto ciò. Qualora ci sia ribasso sulla vendita o sugli accordi che faranno, non impatti assolutamente sul personale in forza, sia quello navigante che quello di terra. Questo non possiamo assolutamente permettercelo. Intanto un'ulteriore doccia fredda. Proprio in queste ore Alitalia ha inviato a governo e parti sociali una nuova lettera di licenziamento collettivo per i circa 2.500 lavoratori dell'ex compagnia di bandiera in cassa integrazione fino al 31 dicembre. Nelle ultime ore infatti ci è arrivata la notizia dell'inizio della procedura di licenziamento collettivo perché i due mesi ovviamente sono in scadenza del 31-12 quindi in mancanza di altre soluzioni la società deve adempiere a quelli che sono gli obblighi di legge. Invitiamo tutti gli antiproposti a continuare il ciclo di incontri per definire una soluzione un pochino più prolungata. Invitiamo sia il ministero che la società a procedere con gli incontri, con le parti sociali per trovare questa soluzione per tutte queste persone.